Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, sfida TOTI6 Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e bamalos Allora... Il pacchetto non lo posso aprire perché purtroppo c'ho alcuni giocatori che li devo ancora integrare in qualche sfida Però intanto vi mostro la mia proposta per la sfida di oggi Non è una sfida molto costosa, alla fine i giocatori li trovate pure a 1K, 1K2 Anche se sono alti di rating, come vedete, 1.100, non è una cosa che... Purtroppo ci stanno chiedendo di mettere giocatori rari con valutazione 75 Andare a cercare quegli agenti orari ci si vuole un po' di tempo Quindi spendiamo questi crediti un po' di più e risparmiamo un bel po' del nostro tempo Quindi ragazzi, purtroppo a volte risparmiare non si può perché non vale la pena Questo ve l'ho fatto vedere Andiamo a ritirare il nostro pacchettino E io vi ringrazio tantissimo, come sempre, per aver guardato anche questo video Ci vediamo quanto più presto con un prossimo Ciao ciao!